Adesso vi potete sfogare, eh? Adesso tutti zitti! La pattuglia acrobatica! Eccoli! La pattugliona! Col bambino! La pattuglia col bambino! Riprendiamo la pattuglia sia davanti che dietro! Abbiamo chi chiude la pista! Siamo in videoconferenza! In videoconferenza! Allora, auguriamo alla piccola tanto successo per questa sera! Grazie, grazie! Forza, Micaela! Forza, Micaela! In Spatania! Dicevo, siamo qui al centro di Wengen, paesino bellissimo, salutiamo tutti! Ciao! Ciao! Ciao!